Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 7 km di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze Sud, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla FIPILI per lavori in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino, in direzione mare rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo, chiuso lo svincolo di Montelupo in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!